La polizia ha controllato magazzini di prodotti agroalimentari, emersi in regolarità di carattere sanitario su 10 tonnellate di pomodoro ciliegino e datterino. I controlli si sono registrati a Vittoria. Rubava denaro e gioielli alle famiglie cui prestava servizio come collaboratrice domestica. È successo a Dispica dove una 46 anni del posto è finita agli arresti domiciliari. L'operazione è stata a porta da termine dai carabinieri della compagnia di Monica. Giustificazioni non convincenti, quelle adotte dall'assessore al bilancio Stefano Martorana ieri in consiglio comunale. Sull'argomento parla Sonia Migliore che chiede che il sindaco debba venire a relazionare sulla crisi del Movimento 5 Stelle. Inizierà domani mattina una nostra lunga diretta che porterà nelle vostre case tutta l'emozione del giovedì santo di Dispica. Carmela Minardo e Marco Scaivino racconteranno tutta la giornata della celebrazione del Cristo alla colonna. Ancora ben trovati a questa nuova edizione, lo avete sentito dai titoli, in apertura parliamo di cronaca. C'è l'ispezione da parte della Polizia di Vittoria che ha effettuato dei controlli su due magazzini di lavorazione di prodotti agroalimentari. Le operazioni di controllo a carattere amministrativo hanno avuto inizio alle 11 di ieri mattina e poi si sono prodotte per tutta la giornata. L'esito in un sito erano stoccate 10 tonnellate di pomodoro, ciliegino e datterino e sono emerse anche delle irregolarità rispetto agli aspetti autorizzativi sanitari. Inoltre durante il controllo sono stati identificati essenti di più di 40 operai. Tutto il bilancio in questo servizio. 10 tonnellate di pomodoro, ciliegino e datterino sono state stoccate nel primo sito ispezionato dalla Polizia. Non sono emerse irregolarità circa l'origine e la provenienza, ma la ditta non era in possesso secondo gli accertamenti dei certificati sanitari obbligatori per il confezionamento dei prodotti. I locali sono stati sequestrati con conseguente apposizione di sigilli per aver omesso di comunicare all'autorità competente la registrazione dia prevista per l'esercizio dell'attività, svolta dunque in modo abusivo. Inoltre durante il controllo sono stati identificati e sentiti 40 operai con varie mansioni intente a lavorare lungo la filiera postazione di manipolazione e confessionamento di ortaggi. Le loro posizioni sono state attentamente vagliate. I poliziotti da un primo accertamento hanno verificato che 35 su 40 lavoravano in nero. In un'altra azienda erano stoccate ed errate pari a 1.800 kg di pomodoro e 1.400 kg di melanzane per i quali non sono stati forniti i documenti di ingresso dei prodotti. Il titolare è stato diffidato. Inoltre durante il controllo sono stati identificati e sentiti altri 21 operai. Anche la loro posizione contrattuale non è chiara agli investigatori. Su questo affronte continuano gli accertamenti. Nell'area di pertinenza dell'azienda è stato rinvenuto un fosso di circa 100 metri quadrati all'interno del quale. Sto erano smaltiti illecitamente bruciandoli i rifiuti della lavorazione. È intervenuta la polizia scientifica per i rilevi tecnici. A carico del responsabile è scattata la denuncia penale per aver scattato e smaltito i rifiuti illecitamente. Un'insospettabile domestica ruba soldi e monili per rivenderli ai compro oro. I furti avvenivano nelle abitazioni dove la stessa svolgeva l'attività lavorativa. È stata beccata e un'ispicese è stata raggiunta stamani da un'ordinanza di custodia catalare agli arresti domiciliari eseguita dai carabinieri della compagnia di Motica dopo aver ricevuto diverse segnalazioni. Vediamo. Ispica settembre 2015 è arrivata la prima denuncia per furto in abitazione di Preziosi. I militari dell'arma non hanno riscontrato il consegno di effrazione a porte e finestre. Una domestica espicese di 43 anni, Patrizia Zocco, è stata raggiunta dall'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari eseguita dai carabinieri della compagnia di Motica. I militari dopo la prima denuncia ne hanno ricevute altre, cinque quelle accortate, durante le quali è stato verificato che le modalità della commissione del reato erano le stesse. Un dato accomunava i diversi casi, la domestica. Era la stessa nelle diverse abitazioni. È stato accertato che la donna ha rubato denaro ai monili, questi ultimi rivenduti nei compro oro. I carabinieri hanno perquisito diversi negozi e hanno scoperto che l'insospettabile domestica in più occasioni aveva venduto gioielli, gli stessi riconosciuti dai proprietari, come oggetto di refurtiva. La donna approfittava anche della piena fiducia accordata dai proprietari che le lasciavano fin anche le chiavi di casa. Da ieri pomeriggio la donna è sottoposta agli arresti domiciliari come previsto dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare e dovrà rispondere del reato di furto in abitazione continuato e aggravato dal fatto di aver abusato della relazione domestica intercorsa con le parti offese. La politica è stata rinviata il 30 marzo. La discussione all'Assemblea regionale siciliana sulla riforma dell'ex provincia, lo ricorderete, approvata all'Ars nel 2015, fu anche impugnata dal Consiglio dei Ministri. La legge, una volta approvata, dovrebbe dare stabilità agli enti intermedi, definendo liberi consorsi e città metropolitare. Sentiamo questo servizio. Ancora una fumata nera ieri all'Assemblea regionale siciliana per quanto riguarda la riforma dell'ex provincia. Il DDL infatti tornerà in aula mercoledì 30 marzo. Insomma, dopo due ore e mezza di discussione, nulla di fatto sulla riforma impugnata da Roma. Ad inizio lavori, il presidente dell'Ars, Giovanni Ardizione, ha chiesto ai deputati di limitare gli emendamenti per raggiungere un'intesa. Siamo qui, ha detto Ardizione, per valutare la strada migliore che ci porti a varare una legge non impugnabile, ma non bisogna sconfinare rispetto ai punti evidenziati dal Governo nazionale. La modifica infatti riguarda le norme impugnate dal Consiglio dei Ministri alla legge approvata nel 2015, tra i punti più discussi, le funzioni degli enti, ma anche il ruolo del sindaco della città metropolitana. Dunque, entro le 20 di questa sera, si dovranno presentare gli emendamenti per poi discuterli mercoledì prossimo. L'assessore regionale alle autonomie locali, Luisa Lantieri, ha detto in aula se siamo riusciti a superare il 2015 è stato soltanto dovuto al fatto che c'è stata una deroga sul bilancio che ci ha permesso di utilizzare un avanzo di amministrazione, ma per il 2016 purtroppo queste possibilità non ci saranno. Per l'assessore regionale all'economia Alessandro Bacce, invece, in Sicilia si annuncia una nuova stretta sulle spese delle ex province che si aggira sui 35 milioni di euro per poter concludere la trattativa con lo Stato sulla riduzione alla compartecipazione al debito pubblico o sulla mobilità dei dipendenti verso incarichi statali. C'è un disavanzo complessivo calcolabile tra i 150 e i 180 milioni di euro che corrisponde più o meno alla quota che le province versano a titolo di compartecipazione al risanamento della finanza pubblica. Bacce ha poi aggiunto Non si può pensare che Roma congeli interamente questa quota né che la regione se ne faccia interamente carico. La mia ipotesi, ha detto ancora l'assessore regionale, è che riducendo ancora il budget di spesa delle province per 35-40 milioni, portando a termini azioni virtuose, Roma sia più elastica e ci venga incontro anche sulla mobilità dei dipendenti verso altre amministrazioni dello Stato o su come poter usare l'avanzo di amministrazione che i consorsi ancora hanno. Insomma, il nodo è salvare le province dal dissesto. La Giunta regionale siciliana ha approvato la dichiarazione dello stato di crisi del comparto agricolo siciliano, con particolare riferimento al settore degli agrumi e dei pomodori. Il via libera dalla delibera proposta dall'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici è arrivato ieri pomeriggio durante la riunione dell'esecutivo a Palazzo d'Orlean. Questo provvedimento, ha commentato l'assessore, potrà supportare l'azione del governo italiano impegnato nella richiesta all'Unione Europea di applicare la clausola di salvaguardia nei confronti dei prodotti che entrano nei nostri mercati, alterando il valore della produzione. Inoltre, potranno anche essere attivate delle misure straordinarie per la promozione dei prodotti in difficoltà e il ritiro merce per beneficenza. Parliamo ancora di politica. Ci spostiamo a Ragusa con il Consiglio Comunale ieri sera in prosecuzione dell'altra seduta dell'altro ieri, di due giorni fa. L'opposizione è contro l'assessore del bilancio Stefano Marturana, che ha ricevuto tre rilievi dalla Corte dei Conti per alcune delibere, soprattutto per quelle che riguarda il bilancio 2013. Giustificazioni non convincenti. È reso durante il civico consesso. Secondo l'opposizione, il Sindaco venga a riferire in aula della crisi politica interna al Movimento 5 Stelle e l'appello lanciato da Laboratorio 2.0, rappresentato in Consiglio da Sonia Migliore. Il peggiore Consiglio Comunale e la peggiore amministrazione che la storia ricordi è la gente stufa di questo nulla. Nulla come quello che è accaduto alle 4.500 persone che hanno firmato la petizione contro le tasse che sono state letteralmente ignorate, ma alle quali però arrivano puntuali le pretese tributarie. È la nota al veleno della consigliera comunale di Laboratorio 2.0 a Ragusa, Sonia Migliore. L'opposizione ha descritto la situazione totalmente allo sfascio all'interno di tutto il Movimento 5 Stelle a fare le spese e la città. Le prime criticità sollevate da Sonia Migliore riguardano i rilievi della Corte dei Conti sul bilancio 2013, l'ultimo e quello di ieri sera che riguarda una deliberazione per la razionalizzazione delle partecipate su cui l'assessore al bilancio Stefano Martorana non ha saputo fornire valide spiegazioni. L'opposizione ha chiesto al Sindaco Federico Piccito che venga a riferire in aula sulla crisi della maggioranza che per l'opposizione è ormai più che evidente. La preoccupazione della Migliore è che con questo andazzo non si possono votare atti perché manca sempre il numero legalo o perché non c'è unione di intenti e l'intera macchina amministrativa potrebbe subire sempre fasi di arresto. Il Sindaco l'avremmo visto uno o due volte in sei mesi al Consiglio ha denunciato Sonia Migliore che da due anni chiede le dimissioni dell'assessore Stefano Martorana. Un assessore al bilancio che, dopo aver incassato ben due rilievi della Corte dei Conti, in appena una settimana e per cui ostenta giustificazioni paradossali, viene smentito e sfiduciato pubblicamente in Consiglio Comunale da un attacco politico profondo e sottile dal consigliere Leggio nel suo stesso movimento che ieri in aula ha trovato il coraggio di dirgli che il tempo è scaduto chiedendo chiarezza in primis al Sindaco. Si legge nella nota di Laboratorio 2.0 e in tutto questo continua la nota mai un'assunzione di responsabilità da parte del Sindaco che assiste da dietro la tenda come se tutto questo non lo riguardasse. Adesso il quadro è completo e non ci sono più alternative. Senza maggioranza non si governa e piccito la maggioranza non c'era più. Chi saranno i prossimi assessori? Da chi saranno indicati? Quale maggioranza sosterrà questa amministrazione? L'opposizione pretende chiarezza e chiede al Sindaco di riferire in aula della crisi politica che attraversa non solo il suo partito ma tutta la città. Per dovere di cronaca ci teniamo a riferirvi che noi abbiamo chiesto una replica su quello che sta succedendo all'interno del Consiglio Comunale di Ragusa ma soprattutto anche all'interno del Movimento 5 Stelle sia all'assessore al bilancio Stefano Marturana che al Sindaco di Ragusa Federico Piccito senza ricevere alcuna risposta dagli interessati almeno fino ad ora. Continuiamo ancora a parlare del Sindaco di Ragusa Federico Piccito perché su disposizione del Prefetto Maria Carmela Libriz è disposto le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea a mezz'asta al Comune di Ragusa in segno di lutto per le vittime dell'attentato terroristico di Bruxelles di ieri. Il Prefetto ha infatti invitato tutti i sindaci dei comuni della provincia anche il Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Ragusa di far sì che in tutti gli edifici pubblici venissero posse a mezz'asta le bandiere in segno di partecipazione al dolore che ha colpito il popolo belga per la tragedia causata dai gravi attentati sia all'aeroporto internazionale che alla metro di Bruxelles. Cambiamo argomento parliamo del maltempo che sta colpendo il sud della Sicilia per colpa del ciclone Nettuno tempo brutto fino a venerdì con forti venti amareggiate piogge sparse poi miglioramento per Pasqua ancora incerta invece la giornata meteorologica di Pasquetta facciamo il punto in questo servizio. Il ciclone Nettuno ha colpito l'Italia portando maltempo soprattutto al centro-sud diverse le piogge in varie parti del meridione in Sicilia con qualche rara schierita anche le temperature hanno subito un calo dopo i giorni scorsi in cui si era respirato un po' di aria primaverile nei prossimi giorni inoltre ci saranno forti venti nei quadranti settentrionali di Maestrale Tramontana e qualche amareggiata nella costa tirrenica. Siamo sotto l'azione di un vortice depressionario che per tutta la giornata di oggi manterrà condizioni di pioggia un po' in tutta la regione forse la parte ionica sarà quella un po' che vedrà episodi più radi ecco con qualche spazio di sole ogni tanto diciamo che siamo in una fase che fino anche nei prossimi giorni vedrà una certa instabilità. E per Pasqua cosa accadrà? Abbiamo chiesto un esperto del Sias. Il quadro è un po' incerto ma possiamo dire che ragionevolmente la giornata di domenica la giornata di Pasqua dovrebbe essere quella più stabile che si preannuncia probabilmente senza piogge e anche con diciamo una nuvolosità piuttosto limitata anche se non sarà completamente serena e anche con le temperature un po' in ripresa perché in questi giorni continueranno a scendere fino a venerdì avremo un progressivo calo che ci riporterà in condizioni pienamente invernali. Per il lunedì di Pasqua è in arrivo una perturbazione che potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì più probabilmente nel pomeriggio ma è ancora troppo presto per dirlo con precisione. La protesta del liceo musicale d'Italia si è svolta anche a Modica nella sala consigliare di Palazzo San Domenico con un flash mob musicale a sostegno dell'avvertenza aperta dagli insegnanti del liceo musicale Giovanni Verga di Modica. Si rivolge contro le norme rese note in questi giorni che regolano l'accesso agli insegnamenti e un nuovo concorso per insegnanti. Due le petizioni sottoscritte una per il ministro della pubblica istruzione e l'altra il ministro Stefania Giannini. Il rischio è che dal prossimo anno i docenti di materie musicali e coreutiche che insegnano nei licei musicali di ruolo e non perderanno la possibilità di continuare ad insegnare in quanto non potranno partecipare al concorso. Per quanto riguarda il liceo musicale del Berga di Modica c'è il rischio che il 90% dei professori delle materie musicali non ci siano più dall'anno prossimo. Voltiamo pagina perché entra nel clu la settimana santa da domani prende il via il trito pasquale e noi ve lo racconteremo con un evento live il gruppo editoriale radio e video mediterraneo promuoverà Upacci a colonna di Ispica. Vediamo. Primo evento live della settimana santa domani su video mediterraneo si inizia con il giovedì santo di Ispica che apre il triduo pasquale nella città una lunga diretta che prenderà vita alle 10.30 dove da dentro la basilica di Santa Maria Maggiore porteremo nelle vostre case Upacci a colonna un evento che ogni anno raccoglie nella cittadina centinaia di fedeli che a partire dal 1.30 della notte prendono parte alle celebrazioni l'inizio della nostra diretta porterà nelle vostre case l'apertura della cappella che custodisce il simulacro di Cristo flagellato alla colonna che susciterà la commozione dei fedeli che vedranno scivolare al di sopra di loro la statua poi si riprenderà poco dopo le 17.30 per raccontare le fasi dell'uscita della statua alle 19.15 e nei minuti successivi saremo in corso Garibaldi per farvi assistere allo spettacolare incontro tra il Cristo flagellato e Maria Dolorata poi dalle 20.45 le fasi finali con l'arrivo e la partenza alla cava un evento che il gruppo editoriale Radio Video Mediterraneo porterà sui vostri televisori e non solo potrete seguire tutta la lunga giornata del giovedì santo ad Ispica condotta da Carmela Minardo e Marco Scavino sui nostri canali 823 della piattaforma Sky 11 e 605 del Digitale Terrestre e sul sito internet www.videomediterraneo.it Ieri sera le viuzze di Ibla hanno accolto i devoti in processione animata dalla confraternita San Filippo Neri che della chiesa monima ha recato a spare il gruppo statuario della Veronica che asciuga il volto di Gesù sono ieri sera si sono conclusi tutti i cortei processuali legati alla celebrazione del quarantore il simulacro è stato condotto fino all'interno del Duomo di San Giorgio per l'adorazione del Santissimo Sacramento il rito dunque si concluderà oggi alle 17 al Duomo di San Giorgio con la solenne esposizione del Santissimo Sacramento e alle 19 poi sarà celebrata la Santa Messa presentata stamani nella sede dell'ASP di Ragusa sono stati presentati neo dirigenti delle unità operative complesse di emodinamica e urologia si tratta del cardiochirurgo Antonio Nicosia e dell'urologo Francesco Curto l'azienda oggi ha anche comunicato che a breve saranno banditi concorsi per il completamento della pianta organica il cardiochirurgo Antonio Nicosia e l'urologo Francesco Curto sono i neodirettori delle unità operative complesse rispettivamente di emodinamica e urologia è stato il manager dell'ASP7 a presentarli stamani ai giornalisti curriculum d'eccezione per entrambi che hanno già diretto le due unità a cui si rivolgono pazienti anche fuori provincia unità di intenti anche da parte dei due team che hanno espresso un unico candidato Nicosia specializzato in ecocardiografia transtoracica e transtesofagea è giunto a Ragusa nel 2005 facendo diventare l'emodinamico un fiore all'occhiello della sanità iblea la cardiologia di Ragusa è una cardiologia cosiddetta AB in un sistema oramai consolidato che si chiama AB SPOC cioè del mozzo dei raggi della ruota e il mozzo è chiaramente quello che ha bisogno della cardiologia interventistica e ha bisogno di una unità coronarica di terapia intensiva sviluppata in un certo modo perché concentra tutta la almeno la cardiopatia ischemica tutte le emergenze le acuzie le emergenze coronariche di tutta la provincia e quindi spero di essere all'altezza e di continuare a portare avanti questo percorso Nuove tecniche meno invasive per i pazienti dell'urologia grazie a Curto che ha al suo attivo 350 interventi di chirurgia laparoscopica L'urologia oggi si caratterizza sempre di più per la chirurgia mininvasiva e quindi il lavoro che stiamo portando avanti è di offrire alla popolazione una chirurgia altamente specializzata quindi non più con il taglio chirurgico tradizionale ma in laparoscopia abbiamo già eseguito numerosi interventi di asportazione della prostata per tumore ma anche di asportazione del rene completo o parziale grazie alla direzione che ci ha messo a disposizione le migliori attrezzature abbiamo una colonna laparoscopica di ultima generazione a breve saranno anche nominati i direttori delle unità di ginecologia degli ospedali riuniti di vittoria comiso e quello di chirurgia di ragusa l'urologia avrà anche un ambulatorio rosa che sarà diretto da maria lopez tra gli annunci anche l'implementazione di personale medico nelle unità d'emergenza nei tre ospedali di modica vittoria ragusa in oltre tempi brevi sono stati annunciati per il completamento della pianta organica in un primo momento saranno 600 gli operatori che verranno assunti tra questi anche gli ex LSU c'è una breve pausa pubblicitaria torniamo tra poco ancora ben trovati una giornata di studi organizzata sulle problematiche causate dai nematodi all'orticoltura nel bacino del Mediterraneo con particolare riferimento alla Sicilia e quanto si è svolto alla Palagri Sicilia Vittoria l'iniziativa promossa dal SIN la società italiana di nematologia e dal mensile Agri Sicilia visto la partecipazione di numerosi esperti del settore vediamo sono proprio i nematodi che dopo la paura per la tuta assoluta stanno ora creando problemi tra i produttori agricoli studi consolidati confermano perdite in quantità sino al 50% e la Sicilia con il suo clima è la regione in cui i nematodi riescono meglio a riprodursi come contrastare questo problema di questo si è parlato nel corso di una giornata di studi svoltasi a Vittoria al Palagri Sicilia un confronto in tal senso è molto importante e quindi io sono più che fiducioso sull'esito senza altro positivo di questo incontro che consentirà ai nostri tecnici di acquisire ulteriori informazioni e affinare sempre di più le strategie di difesa nell'ottica di un'agricoltura sostenibile soluzioni per fortuna non ne mancano bisogna avere prima di tutto prima di scegliere quale mezzo utilizzare fare un'analisi del terreno cioè noi oggi non siamo ancora abituati a fare il check up del terreno è il punto di partenza sapere cosa abbiamo nel nostro terreno quanto di questi paradigmi abbiamo e in base a questo decidere come agire per limitare i danni causati dai nematodi un importante momento di studio che si inserisce in un più vasto programma di appuntamenti che si svolgeranno al Palagri Sicilia oggi parliamo di nematodi è un tema importantissimo per quest'area è il mensile agri sicilia che dirigo è il Palagri Sicilia confermano l'importanza di un centro convegni completamente dedicato a questi temi che in un'area così importante mancava la nostra mission è divulgazione scientifica affinché le aziende possano essere sempre informate sulle innovazioni tecniche innovazione del mondo della chimica e quant'altro serva per andare avanti la tragedia del 30 settembre 2013 sulla spiaggia di Contrada Renelle e Trippatora San Pieri dove morirono 13 migranti sarà raccontata con un docufilm dal titolo a me resta la speranza le cui riprese sono state girate ieri pomeriggio sulla stessa spiaggia del drammatico evento scritto e diretto da Virginia Barrett è tratto dall'omonimo monologo teatrale andato in scena a Roma e Salerno i protagonisti sono Marcia Sedoc e Michele Celeste della compagnia officina a teatro di Caltanissette con la partecipazione straordinaria di alcuni ragazzi sbarcati sulle coste siciliane inseriti nell'organico della compagnia teatrale la fotografia è stata affidata ad Alessandro Caiuli romano di nascito ama siciliano di adozione con alle spalle 150 film tra i quali il gladiatore The Passion una leggenda del pianista sull'oceano e il montaggio invece Raimondo Crociani premio David Toratello per il montaggio di diversi film di Ettore Scola il docufilm è impreziosito dalle scottante immagini inedite dello sbarco di migranti avvenuto sulla spiaggia di San Pieri sarà presentato in vari festival cinematografici internazionali da questa l'ultima notizia non ci sono aggiornamenti grazie ancora per averci seguiti buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti